E' di questa mattina la lettera inviata dai consiglieri di opposizione, consolato da Natalino Caccamo, Agostino Abate e Gisella Botticchio, alla Direzione Centrale degli Uffici Territoriali del Governo per l'Autonomia Locale e quindi dal Prefetto di Salerno. Si legge nella nota A sua eccellenza signor Prefetto di Salerno, EPC Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per l'Autonomia Locale. Con la presenza si trasmette in allegato la nota del Collegio di Revisore dei Conti del Comune di Agropoli, in cui si comunica che, a dato dirne, non è stata l'ora trasmettata messa nessuna documentazione in era in 3D Conti di Gestione 2018 e tutti i relativi allegati. Da un nostro preliminare accertamento sulla base delle delibere di giunta pubblicate all'inizio anno, il cui elenco si rimette anch'essi in allegato, si evince effettivamente che, a dato dirne, non risultano essere state condotte nell'accertamento dei residui, nell'approvazione dello schema di bilancio consultivo 2018, risultando ampiamente oltre termine sia nella sua presentazione al Consiglio sia alla Giunta Comunale. Pertanto si pone l'attenzione di Sua Eccellenza il Prefetto per dare seguito alle sue determinazioni e agli organi che leggono in conoscenza per sovraintendere il procedimento per quanto di loro competenza. Cordiali saluti, i consiglieri comunali Caccamo, Abate e Botticchio.